Sono stati tutti assolti, quattro giovani arrestati tre anni fa a seguito di una maxi rissa nel centro di Arezzo. Era la notte del 25 gennaio 2021, in piazza San Francesco, quasi 15, le persone coinvolte nel parapiglia, tra calci, pugni e anche colpi con una stampella. Siamo la polizia! Il processo si è concluso, lo stesso PM, Elisabetta Sbragi, ha chiesto l'assoluzione dei quattro imputati. Dopo un'attenta analisi della documentazione prodotta dalla difesa, il PM non avrebbe rilevato elementi sufficienti per una condanna.